Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video Prima di tutto volevo ringraziarvi tantissimo per aver partecipato in veramente infinite persone al giveaway Non mi aspettavo una fluenza appunto così ricca quindi grazie veramente di cuore E vi dico che ci sarà l'estrazione la prossima settimana Voglio dare il tempo diciamo di partecipare un po' a tutti di farlo vedere un po' in giro E poi farò l'estrazione con calma la prossima settimana Poi attenzione ragazzi perché sono usciti un sacco di preordini un sacco di novità proprio fresche fresche Quindi ho preso la palla al balzo e andiamo a vederle ragazzi andiamo a vederle sul mio sito Ara Shop Eccole qua ragazzi cominciamo subito ci sono le nuove figure da Dragon Ball Diamond Non solo ci sono altre figure interessantissime ma una delle novità più fighe è questa ragazzi Mezco per la sua linea Five Points di cui qualche tempo fa ha annunciato le figure della serie animata di Batman In scala 5 pollici insomma stile Kenner Annuncia anche il set dedicato a Batman del 1989 con Batman Joker e poi lo sgherro ragazzi eccolo lì Guardate che spettacolo confezioni vintage accessori e parti intercambiabili ma comunque Lo stile che si mantiene con appunto come quello dei giocattoli diciamo Kenner toy beads Fighissimo veramente fighissimo stile vintage pazzesco e dove c'è il set di figure c'è anche la Batmobile Che sarà ovviamente compatibile con queste figure anche questa stile vintage Guardate che spettacolo con anche la copertura l'armatura veramente qualcosa di fantastico E chiaramente il Batman sarà possibile inserirlo all'interno con anche l'effetto qui del propulsore Veramente una figata pazzesca Veniamo alle SH figures di Dragon Ball Da Dragon Ball Daima abbiamo il Goku adulto ragazzi E io ragazzi adoro questo nuovo design di Goku Un design molto pulito Un ritorno alle origini quasi del primo Goku adulto Veramente fantastico però comunque con uno stile anche moderno insieme Quindi un bel connubio ragazzi Con questo arancione molto chiaro Vediamo delle nuove articolazioni Vediamo comunque ha i doppi capelli intercambiabili Quindi è una figura che costa molto poco Però i suoi accessori li ha E secondo me è veramente un bel Goku E non vedo l'ora ragazzi di vedere questo Dragon Ball Daima Perché si pronuncia una serie veramente figa Chiaramente è uscito il prodotto qualche tempo fa anche del Goku ritornato bambino Sempre Dragon Ball Daima Quindi ci sono entrambe le versioni Anche questo con capelli intercambiabili Ma l'abbiamo già visto Era solo un rivederlo E abbiamo anche il nuovissimo preordine di Vegeta Sempre Dragon Ball Daima Vegeta adulto ovviamente Questo qui è uno stile sempre moderno Però con una strizzata d'occhio A quello più vecchio diciamo Quello più classico di Akira Toriyama L'ultimo lavoro del maestro Prima di lasciarci Questo da Dragon Ball Daima Un'importanza veramente Grande Secondo me sarà una figata da vedere Anche lui con doppi capelli tra l'altro Ed è il primo Vegeta in armatura Che ci danno con i capelli normal per questa linea Sage Figures Perché fino adesso erano sempre stati Super Saiyan con l'armatura Questo tipo di armatura ovviamente Abbiamo anche la sua versione Kid Rimpicciolita Mini Eccola qui Fighissimo Quindi si fa l'accoppiata anche qui E poi abbiamo anche piccolo Ancora solo mini Però probabilmente faranno anche lui Versione adulta Continuando ancora con le novità Ragazzi Ci sparano fuori il ritorno di Majin Bu Questo qui attesissimo da tanti che se l'erano persi L'hanno finalmente ristampato ragazzi Questa è una delle migliori figure fatte per questa linea A mani basse Veramente fighissimo Con tutti i suoi accessori Visi, teste Un sacco di roba ragazzi Anche l'effetto energetico Per quanto riguarda poi le novità Ragazzi Ci sparano fuori il mago nero Per la linea Monster Arts Dedicata a Yugi E ragazzi questo forse è il mostro più iconico Non dopo il drago bianco e blu Secondo me questo è il più iconico in assoluto Fatemi sapere se siete d'accordo con me Sicuramente il mio preferito Eccolo qua Non posso non avere questa figura in collezione ragazzi Tra l'altro con tutti gli effettini del caso Super articolato Pazzesco ragazzi Veramente Incredibile realizzazione su queste Monster Arts Continuando ancora abbiamo la nuova uscita Per la linea dedicata a Naruto Che sta continuando e sta avendo anche un bel successo Abbiamo uno dei personaggi più amati Ovvero Shikamaru ragazzi Eccolo qua Con il suo effetto dell'ombra Ovviamente super articolato L'accendino Insomma ragazzi Una bella chicca da aggiungere alla collezione di Naruto Con anche l'effetto mano in tasca Veramente figo E continuando ancora abbiamo anche Una nuova figure di Tekken 8 Ovvero Nina Williams Uno dei personaggi più amati Eccola qui Con occhiali da sole Pistola Il suo nuovo outfit Molto molto figo E chiaramente un sacco di Articolazioni E somiglianza Impressionante davvero Con il personaggio Continuando Ancora Penultima Chicca E ragazzi Che bomba incredibile Abbiamo Il preordine Di Oguro Direttamente Ottoguro Da Yu Yu Akusho Nella versione appunto Super fortificata Con quest'armor Che prende appunto Il povero Yusuke Che tra l'altro È un preordine Già disponibile Sul sito Ragazzi Questa è una figata Pazzesca Tra l'altro Figure bella grande Veramente enorme E poi Concludiamo Con una figure zero Dedicata a One Piece E abbiamo Sabo Con questo effetto Fiammeggiante Che sferra Il suo pugno Di fuoco Una figure Bella grande Tra l'altro Extra battle Con dettagli Pazzeschi E poi effetti Clamorosi Ragazzi Il video Dei preordini Finisce qui Un sacco di novità Come avete visto Fatemi sapere Qual è la vostra preferita Con un commento Qui sotto Se volete partecipare Al contest Se non l'avete ancora fatto Trovate il video Sul canale Quindi vi spiego Tutto Come fare Lì dentro Vi ringrazio sempre Per la visione Ciao da Ara E qual è stato sempre